Ciao a tutti! Quanto tempo, come state? Spero tutti bene. Purtroppo ultimamente, tra un po' di lavoro, un'influenzina primaverile e l'arrivo di mia socia dalla Sicilia, perché si doveva operare un ginocchio, non sono riuscita a fare video. Però mi andava di fare un aggiornamento sia per salutarvi e sia per dirvi cosa si combinerà prossimamente su qui, su YouTube. Allora, mi piacerebbe fare un video a settimana, ma sospetto che non mi sarà possibile. Però, visto che ne ho collezionate parecchie ultimamente, sicuramente uno dei primi video sarà su le papere, e spero che possa farvi sorridere. E poi, soprattutto, visto che l'idea che avevo proposto tempo fa aveva ricevuto tanti consensi, preparatevi perché arriveranno i video finalmente sul libro dell'Apocalisse. Perciò, tutti pronti a vestire panni di archeologi, perché sicuramente ce ne sarà tantissimo da investigare. Poi, un'altra idea che avevo era di fare dei video su dei post vecchi che avevo scritto sul mio blog. Mi sembrava carino poterli fare sotto forma di racconto, tipo come nell'ultimo video, Una mano dal cielo. Potrebbe piacere, fatemi sapere se questa idea vi potrebbe piacere. E poi, spero di riuscire a realizzare presto un video che parlerà di un simpatico chicco di grano. Mi sembra che per ora sia tutto. Naturalmente, se avete delle richieste su argomenti particolari o delle domande, a me non mi potrà fare altro che piacere, quindi scrivetemi qua sotto nei commenti. Per il resto, grazie a tutti di non averci abbandonato, grazie a tutti i nuovi iscritti e anche i vecchi iscritti. E ci vediamo prestissimo e vi abbraccio tutti, 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 forte, forte. Grazie a tutti.